Le previsioni per martedì 6 agosto 2024 di Globus Television. Martedì, pressione sulla regione, giornata contraddistinta da bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso, isolati temporali pomeridiani sui rilievi della provincia di Catania, mari nelle province siciliane, Messina mare calmo, Agrigento mare calmo, Catania da calmo a poco mosso, Ragusa mare calmo, Siracusa poco mosso, Trapani mare calmo, Palermo mare calmo, Caltanissetta da calmo a poco mosso.